Buongiorno a tutti, oggi apriremo insieme un pacco che è arrivato da Amazon, ho ordinato l'altro ieri la spedizione era prevista per venerdì, invece è arrivata subito, oggi è mercoledì 24 settembre l'ho ordinata lunedì, quindi spedizione velocissima, gratuita, quindi assolutamente consiglio a tutti di utilizzare Amazon, quindi proseguiamo, questo qua è un umidificatore a ultrasuoni che quindi va a far esplodere proprio l'acqua in gocce minuscole e quindi a trasformare proprio l'acqua in umidità stessa in alcuni secondi. Eccolo qua, della Bimar, umidificatore, pesa pochissimo, goccia, umidificatore a ultrasuoni, consumi ridotti, eccolo qua, nero, bianco o azzurro, qualità certificata, made in purtroppo Repubblica Popolare Cinese. Un umidificatore, eccolo qua, pesa molto poco, quindi può essere una cosa positiva. Ecco l'interno, presa di corrente normale, eccolo qua in tutto il suo splendore, qua possiamo andare a decidere di accenderlo e la quantità emessa, quindi secondo me è un buon prodotto, ve lo farò vedere dopo in azione. Eccoci di nuovo, l'umidificatore a ultrasuoni è partito, ho messo l'acqua a osmosi inversa in modo da non aver problemi con il calcare, è partito due secondi dopo che l'ho messa veramente. Niente, sembra un buon prodotto e vi farò sapere in seguito su come sta andando. Ciao a tutti!